E' stato sorpreso mentre stava per piazzare la strumentazione musicale rubata in una discoteca, quattro casse, un subwoofer e due amplificatori, ma all'interno del suo appartamento custodiva anche mixer, microfoni, pianole ed impianti di autodiffusione. L'uomo a bordo di una 5 è stato fermato lo scorso giovedì dagli uomini del commissariato di polizia di Montevarchi, ne presse di Poggilupi a Terra Nuova. Qui, in base alla ricostruzione della polizia, avrebbe dovuto incontrare un acquirente del materiale trafugato circa un anno fa all'interno del locale di Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, appunto le quattro casse, il subwoofer e due amplificatori audio che si trovavano all'interno della sua auto. L'uomo è stato così portato negli uffici del commissariato per essere ascoltato e quando gli è stato chiesto da dove arrivavano gli oggetti, ha precisato di aver acquistato il tutto sul mercato dell'usato, senza però riuscire a dare indicazioni sull'esatta provenienza. Nel frattempo era stato chiamato anche il titolare della discoteca senese che è arrivato a Montevarchi e ha riconosciuto tutto il materiale rubato. In seguito a successivi contatti con i dirigenti delle squadre mobili di Arezzo e Pistoia è stata effettuata una perquisizione domiciliare all'Amporecchio nel Pistoiese che ha permesso di rinvenire a casa dell'Albanese altro materiale musicale sulla cui provenienza continuano ad indagare gli uomini della squadra mobile di Pistoia d'intesa con quelli del commissariato. L'uomo è stato denunciato e dovrà adesso rispondere di ricettazione.